Perché questo primo video sul Garofalo? Perché Benvenuto Tisi, detto il Garofalo, operò in Rubiera nel 1542 e 43, dipingendo gli affreschi delle quattro cappelle della chiesa dell'ospitale di Rubiera. Ho aperto il filmato con quel che residuava, ancora nel 1960, l'Italia Freschi. Grande maestro della scuola ferrovese, i suoi dipinti sono presenti nei maggiori musei del mondo. E questo è un primo assaggio. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.